Il progetto Racchette di Classe è un progetto che nasce dalla collaborazione di Federazione Tennis, Federazione Badminton e Federazione Tennis Tavolo in collaborazione con il Ministero della Pubblica dell'Università e della ricerca. Saranno coinvolti 600 scuole d'Italia e 150.000 bambini. Questo meraviglioso progetto, sopportato da Kinder più Sport, ha l'obiettivo di avvicinare i più giovani possibili al movimento, alla sana alimentazione e al divertimento. Sono tre sport di racchetta, hanno le loro similitudini, le loro differenze, chiaramente sono tre sport diversi, ma per poterli praticare bisogna avere delle qualità molto similari, bisogna avere delle capacità coordinative importanti. Tutti e tre gli sport vengono svolti con palline e racchetta, quindi la capacità coordinativa di leggere una palla o un attrezzo che si muove nello spazio e quindi organizzarsi per colpirlo. Le classi che parteciperanno al progetto verranno forniti i kit con l'attrezzatura necessaria a sviluppare le lezioni con i professionisti forniti dalle federazioni e con i loro insegnanti. Le attività saranno previste nelle strutture scolastiche e nei circoli federali. Noi abbiamo dei mezzi didattici molto importanti, palle di spugna, palle depressurizzate, mini reti, mini racchette, che permettono ai ragazzi di avere un apprendimento molto facilitato e molto immediato e di conseguenza l'appassionarsi a questo sport diventa molto più semplice. A conclusione di questo progetto ci sarà una festa finale durante gli internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma. A mio avviso questo progetto è molto valido perché avvicina dei ragazzi a sport nuovi che eventualmente non vengono praticati fuori dalle attività scolastiche e quindi lo sostengo fermamente e ringrazio Ringa Pi Sport e le federazioni che vi hanno aderito. a A A A Vim!